Va bene, buongiorno a tutti, siamo ancora in attesa di Fabio Mero che per motivi di scuola arriverà tra una ventina di minuti. Siamo qui per presentare alla stampa l'iniziativa di affermazione civile, ma si è parlato anche di proposte di legge presentate dai radicali alla Camera e al Senato riguardanti il matrimonio per le persone omosessuali appunto, per le unioni civili e leggi per contrastare l'omofobia, per il divorzio breve, per i transessuali, per dare loro la possibilità di cambiare il nome senza necessariamente aver operato ancora l'intervento e tutte leggi che in qualche modo sono scaturite dalla conferenza, proposte che sono scaturite dalla conferenza permanente per la riforma del diritto di famiglia, è nata l'anno scorso, il 12 maggio, in occasione della giornata dell'orgoglio laico e che in qualche modo si voleva gettare le basi per riformare il diritto di famiglia ormai fermo dal 1975, quindi 33 anni fa in Italia, ma insomma non solo in Italia, molte cose sono cambiate. Lo sappiamo dalla cronaca, esistono oramai famiglie omogenitoriali, convivenze di fatto e in tutti i paesi laddove sono state fatte leggi il riconoscimento di queste nuove forme non ha significato, così come molti temono, come dire un'involuzione del paese, ma semmai ha rafforzato e arricchito il tessuto sociale, culturale e anche economico del paese. Quindi noi riteniamo che sicuramente sono dei passi da compiere per svecchiare il nostro paese, per renderlo degno di essere un paese europeo. In questo senso l'Associazione Certi Diritti, che è nata il primo marzo di quest'anno, quindi ha poco più di tre mesi, ha pensato a un'iniziativa di affermazione civile. L'idea sicuramente è nata dalla nostra collaborazione con l'avvocatura LGBT, Rete Landford, che è un'associazione di avvocati specializzati sui temi LGBT e che ci coadiuverà in questa iniziativa. Poi c'è anche un'altra collaborazione con la conferenza permanente per la riforma del diritto di famiglia, che ci aiuta comunque a mantenere una visione ampia a 360 gradi di quelli che sono appunto tutti un po' i problemi che investono questo paese rispetto alle discriminazioni, alle mancanze di libertà. Dicevo prima, io nel 2005 ho lavorato alacramente per la raccolta delle firme, per il referendum, per l'abrogazione della legge 40. Personalmente la fecondazione assistita non mi tocca particolarmente come argomento, però trovavo importantissimo essere in strada, lavorare per difendere i diritti di libertà delle persone. Il risultato è quello che adesso chi ha i soldi può andare all'estero a sperare di avere un figlio con la fecondazione assistita, chi invece non ha possibilità deve combattere nelle maglie strettissime di questo Stato illiberale. Questo era anche un po' per dire una digressione, per dire che è fondamentale per noi in questa iniziativa coinvolgere tutte le persone che credono a un paese civile, democratico, dove i diritti civili vengano tutelati, garantiti e soprattutto promossi, come in questo caso. Per entrare nello specifico, l'iniziativa di affermazione civile significa cercare sul territorio nazionale delle coppie, gay o lesbiche, che vogliano vedersi appunto riconosciuto il diritto del matrimonio, visto che a leggere la Costituzione nulla osterebbe, e a presentarsi presso il proprio comune di residenza per chiedere le pubblicazioni, che poi è il passo prima del matrimonio. È naturale, spontaneo, così non fosse noi saremo lietissimi, ma ahimè sarà così, l'ufficiale di Stato civile che per legge è tenuto a motivare il diniego per iscritto, secondo un articolo del codice civile, l'articolo 98, e metterà appunto un documento di diniego che sarà dagli avvocati di rete Lenford impugnato davanti al giudice, nei tribunali. Da qui è presumibile che, ed ecco perché l'importanza di avere quante più coppie possibili, al momento diamo il numero ufficiale aggiornato e le coppie sono 16 in Italia che hanno accettato di aderire a questa iniziativa, collocate nel centro nord. Presumibilmente si avranno sentenze diverse l'una dall'altra, però scalando poi tutti i vari gradi della giustizia italiana, fino probabilmente ad arrivare alla Corte di Cassazione per sentirci dire se noi interpretiamo in maniera giusta la Costituzione chiedendo una reale parità con le persone eterosessuali e quindi il nostro diritto a vederci riconosciuta la possibilità di contrarre matrimonio. Io credo di aver detto le cose più importanti, più tecniche, le altre informazioni le si possono trovare comunque sul nostro sito www.certidiritti.it e le persone tra l'altro vorranno aderire a questa iniziativa, hanno a disposizione un preziosissimo vademecum elaborato anche da Francesco Billotta, chiarissimo, dove si spiegano tutti i passaggi di questa iniziativa e basta, quindi massima collaborazione e massimo sostanzio.